La vincente competizione culinaria della sfoglia d'oro ha inaugurato ieri a Tarmassia, come da tradizione, la Sagra dell'Anara Pitanara. Dieci concorrenti si sono destreggiati con uova, farina e mattarelli per tirare la sfoglia e preparare così le fettuccine da accompagnare con il sugo d'anatra, piatto principe della manifestazione. Il sesto concorso della sfoglia d'oro, una sfida a colpi di mattarello dove dieci concorrenti si sfideranno proprio a colpi di mattarello per tirare la nostra sfoglia che sarebbe anche il piatto principe della nostra manifestazione, nonché le fettuccine con l'anatra. A decretare il vincitore o la vincitrice, lo chef stellato Davide Botta. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Francesca Meggiorini, che secondo lo chef Davide Botta ha realizzato la miglior sfoglia per consistenza, spessore e qualità dell'impasto. Argento invece per Silvia Meggiorini, bronzo a Graziana Colato.